Buongiorno, lei è la signora che mi ha chiamato poco fa? Sì, il problema è quello di avere alcuni peli incarniti. Controllando, noto anche un inizio di follicolite. Questa zona si sta arrossando molto. Quindi dobbiamo andare a togliere questi piccoli peli con la pinzetta. Sì, ma hai usato qualcosa per accorciarli? Perché sono molto corti. Il rasoio manuale, capisco. Allora, io questa operazione la faccio monitorando i peli con un computer e con una lente. Ingradisco la zona in modo da poter vedere meglio dove girare. Quindi, iniziamo innanzitutto con dell'acqua di gelata. Ti disinfetto il polpaccio. Prendo un dischetto. Prendo un dischetto. Passo sopra. Sì, è andata al mare. No, hai fatto bene, altrimenti l'acqua salata ti irritava di più. Aspetta prima che l'irritazione ti passi con il nostro metodo di estirpazione. Piedi con la pinzetta. Qualche giorno e tutti i rossori saranno guariti. Bene, allora io vado a ingrandire. Sei pronta? Non sentirai dolore. Solo un piccolo pizzicone. D'accordo? Vado. Sto vedendo. Con lo schermo del computer. No. Ok. Sono molto accorti. Dovresti. Per farli crescere. Comunque io ci provo, altrimenti dovresti passare la settimana prossima. Ecco qua. Uno. Passiamo un altro. Due. Ti fai male? No. Bene. Alcuni sono talmente sottili che si spezzano. Quali abbiamo addorti? Sì. Mi sposto. Sì. Questa è una telecamera molto specifica per... Viene usata in dermatologia. E per questi lavori di precisione abbiamo acquistato una macchina con un software moderno all'avanguardia. Anche qui, questa zona l'ha fatta con un software moderno all'avanguardia. e lo faccio dopo, perché potrebbe farti male. C'è la crosticina, anche della ferita. Mi sposto. Questa zona qui. Mi sposto ancora. E sì, io sposto la mega fotocamera con dei comandi. manualmente. Mi sposto. 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 Questo sarà un lavoro lungo. Bisogna farle in più sedute. Dovevi venire prima dell'estate, almeno un mesetto prima, in modo che la seduta. Man mano ti trovavi già tutta senza irritazioni, pulita, e la ricrescita era più semplice da gestire. E' un po' tardi adesso. Dovresti tirare avanti con il rasoio elettrico, non con la lametta e nemmeno la celetta, il rasoio, anche se non ti piace perché ti senti un po' ruvida. Gira un po', gira, gira, gira. Devo vedere dove sono di più, qui. Sì, e lo so che non ti piace il rasoio elettrico, però te li lascia corti, corti e spinosi, ruvidi. Però non puoi irritare la pelle così. Gira, ok, perfetto. Aspetta, devo centrare bene la macchina, la lente, l'ingrandimento. Sì, perché dopo che avremo finito questa seduta, il computer ti dà, in base a quello che hai inquadrato, al colore della pelle, e ti dà una terapia efficace per il tuo tipo di pelle, cioè lui riesce a capire la crema giusta. Per il tuo tipo di pelle riesce a individuare le caratteristiche, sì, in base al colore. La tua è molto chiara e delicata, quindi ti darà una terapia di mantenimento, oltre alla crema che ti darò io. Al cortisone dopo ci sarà una terapia di mantenimento, che sarà l'initiva. Si, ho già avuto altri clienti con le stesse caratteristiche. Sì, il computer non ha sbagliato. Poi io, se noto qualcosa che non va a giusto la terapia, questo è solo un consiglio che dà la macchina. Allora, vediamo, andiamo più giù. Forse dovrei diminuire lo suono. Ok, aspettiamo che metti a fuoco. Perfetto. Questo non va. Sono troppo piccoli. Questo. Hai delle fatici abbastanza grandi, anche se il pelle è sottile, le fatici sono molte. Si stanca? Abbiamo finito, quasi. Dopo ti faccio un massaggio, per far circolare meglio il sangue. Allora, si sta agrossando un po' la pelle, ma è questione di poche ore. Passerà subito. Perché la pelle è delicata, quindi un minimo tocco si agrossa subito. Allora, vediamoci un attimo qua. Vediamo un attimo qua. Andiamo a vedere qui. E qui ci sono quelli piccoli e sottidissimi. ecco, abbiamo tolto. Sì, pochi minuti dai. Poi facciamo un altro, un'altra seduta. E' perché sono parecchi. Venuta per la settimana prossima. Così stiamo a tempo all'irritazione di calmarsi. E diamo tempo ai peli di crescere. Così abbiamo una maggiore presa. Questa è molto grande. Mi ha fatto male, vero? E sì, era molto grande. Mi avvicino un po'. Mi avvicino un po'. Sì... 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 E' un po' difficoltoso, ci sono alcuni luoghi, alcuni molto più grandi, alcuni sono ovviamente sottili e invisibili, nemmeno la macchina riesce a mettere a fuoco, poi con il movimento, l'inquadratura non è delle migliori, andiamo più su, qua dobbiamo farli crescere ancora, si decisamente, mi allontano, guarda un po' caldi, Hay un po' caldi, in gelo, guarda... Vedi, non riesco, la prossima volta bisogna fare uno scrub, prima, non riesco a fare un po'. non riescono a prendere ascolta io direi che può bastare per oggi ora ti passo il massaggio vado a mettere un po' di crema con l'uria dentro crema pitti questo va benissimo anche per le gambe vado ad assaggiare così per il rosso lo andiamo a idratare a allenare a morbidiamo la pelle a un po' profondo non 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 si 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 assombe facilmente è un'ottima crema è nuova già bene arrivare si questa la vendiamo se la vuoi però la devo ordinare perchè va subito a ruba è una crema è una crema è una crema molto morbosa nutritiva beva beva sesso qui subito va bene anche in estate certo ti faccio ti faccio dei massaggi circolatori aiuto la circolazione devo tagliare devo tagliare questo dischetto scusa è quello di prima che abbiamo utilizzato per disinfettare vittorio qui si 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 ecco qui delle cavezzine per rilassare dopo questa seduta ti impizzi il cuore con la pinzetta bene ok hai la pelle molto secca la devi tirare questa crema te la consiglio, si se passi la settimana prossima io te la ordino te la vieni a prendere, non costa molto ok si questa è adatta, è delicata, è nutriente no guarda fidaci la sto consigliando a morti sono rimasti contenti certo beh ok la prima è già tutta subita io ti auguro una buona domenica ci vediamo la settimana prossima va bene per la seconda seduta si va bene ciao cara ciao 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 ciao